Ciao a tutti ragazzi, bentornati in cucina col banana col banana oggi faccio un panino che mi aveva richiesto tempo fa Andrea Pezzolla con salsiccia, funghi, ora vi faccio vedere volevo salutare, oltre ad Andrea Pezzolla, Davide Bruno un ragazzo che su YouTube si chiama Skinnetics Pro Gamer Anita Briganti e spero di leggere bene, di pronunciare bene soprattutto Lorenc Gunguga, o Gunguga, o Gunguga, non lo so e il suo amico Luca Lezzoni, ciao a tutti ragazzi allora ragazzi, ecco gli ingredienti solito pane, pagnottina cotta a legna salsicce, funghi porcini, prezzemolo e pecorino guarda che sghicio il fatto che ho messo un po' da venire qui ad indicare poi che ne useremo molto di più però dare tanto qui un accenno della piccola quantità questa è arte ragazzi, sto diventando un artista anche qui allora faccio una piccola premessa lo faccio un po' diverso da come me l'aveva indicato Andrea Pezzolla sapete a me piace un po' le visitare le cose quindi le... la regia cambia dico quindi lo faccio un po' diverso i funghi ho scelto i porcini lui non mi aveva indicato bene quali poi lui ho scelto il pecorino lui aveva indicato più vagamente cacio romano però non lo faccio neanche nella modalità che aveva detto lui comunque ci siamo, lo rielaboro un pochetto cominciamo, va che dite? prima cosa ragazzi, sbucciamo l'aglio sbucciiamo, sbucciamo l'aglio cosa che faccio ormai anche se l'aglio non mi serve sbucciamo l'aglio e ci andiamo a fare a preparare la nostra crema di funghi vi faccio vedere allora ragazzi ho messo i funghi prima ho messo un po' d'aglio al soffriggio olio aglio, ho messo i funghi ora sfumato con un po' di vino bianco facciamo scongelare i funghi sempre ragazzi, lo stesso riscorso quando faccio i funghi li facciamo scongelare li facciamo cuocere almeno 12-13 minuti e poi vi faccio vedere allora ragazzi abbiamo cotto i funghi abbiamo messo il, abbiamo sfumato prima col vino poi con l'acqua, hanno cotto all'incirca un quarto d'ora abbiamo messo un pizzico di sale ora andiamo col mixer a tritare leggermente non deve venire proprio una crema così, grossolanamente tritiamo e andiamo a mettere un po' di prezzemolo tanto adesso ve lo faccio vedere un attimo che pulisco sto fresco e vi faccio vedere tutto quindi ragazzi aggiungiamo il prezzemolo ok, tritato e la nostra crema è pronta ora andiamo a cuocere le salsicce e vi faccio vedere che cosa facciamo col pecorino allora ragazzi abbiamo tolto il botello alle salsicce le abbiamo schiacciate e ora le facciamo cuocere allora ragazzi ecco che cosa dobbiamo fare col pecorino prendete una padella possibilmente antiaderente ci mettete il pecorino un bel po' poi lo disponete come a formare un cerchio poi se non è precisissimo è uguale e accendete il fuoco dobbiamo fare una sorta diciamo di disco una sorta di scamorza di pecorino in poche parole quindi fate cuocere fate abbrustolire bene da una parte vi aiutate con una paletta tipo questa di silicone vedete ancora è presto dobbiamo aspettare che si sciolga bene che dalla prima parte sia abbrustolire sia possibile girarlo per farla abbrustolire anche da quest'altra parte dopo che è cotto una spolverettina di pepe sopra e fate due dischi come questi comunque vi faccio vedere ok ragazzi l'ho girato ora facciamo abbrustolire anche dall'altra parte poi sopra mettiamo un po' di pepe lo teniamo un secondo da parte e ne facciamo un altro tanto ci vuole un minuto a farli quindi ragazzi saranno tutte e due caldissimi allora ragazzi abbiamo messo il pane a tostare sentite ora andiamo a comporre il panino prendiamo la crema di funghi da spalmare sul fondo del pane poi prendiamo le salsicce e le dividiamo no prima facciamo un'altra cosa scusate prendiamo i dischi di pecorino il primo mettiamo la salsiccia mettiamo un po' di di crema di funghi prendiamo l'altro disco salsiccia per concludere crema di funghi crema di funghi ok giusto un po' e giusto un po' ce l'aviamo e poi ragazzi andiamo ora tagliamo e assaggiamo allora ragazzi andiamo a la bella sfranta tagliamo guardate qua ragazzi che bello che robetta ora facciamo l'assaggio ok ragazzi e ora andiamo assaggiare un funghetto andiamo ad assaggiare va è stato saldo? no non più del solito dentro 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 buono buonissimo ragazzi provatelo ringrazio Andrea per l'ottima idea e ragazzi vi saluto vi do un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.